Ho scelto di studiare architettura perché non potevo fare altro. Quando sono uscita dal liceo ho provato solo il test di architettura. Fortunatamente è andata bella. Utilizzo i social network con persone che magari vivono lontano, che non vedo spesso. Ultimamente ho cercato di utilizzarli di più per far vedere quelle immagini che io produco per lavoro. E devo dire che hanno dato molto riscontro e mi hanno anche portato a dei nuovi contatti, a delle nuove possibilità di lavoro. Mi piace il fatto che posso raggiungere molte più persone con meno sforzo e meno impiego di tempo. L'attraverso l'architettura si può essere ironici, si può essere tristi, si può essere tante cose. Sostanzialmente anche soltanto per come si modula la quantità di luce che entra in una stanza. Si può comunicare una sensazione, un'atmosfera. Anche se in realtà viene messa tra le arti meno espressive, è la più espressiva di tutte. Sarò di parte. Sanico Swan Can